Ben ritrovati dalla redazione di news24.si di Bari, sequestrati coragli a cittadino, di ritorno dalle Maldive, turista bloccato in aeroporto, multato e denunciato. Ortanova, ciclista investito e ucciso da pirata, della strada, indagini dei carabinieri, partita la caccia all'omicida. Bari, prostituzione minorile nei pressi dello stadio San Nicola, due arresti, entrambi minorenni in Roma sono stati affidati ad una comunità. Manduria, disposta ispezione antimafia al comune, pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dell'ente. Brindisi, scontri prima del derby, Virtus Francavilla, Lecce, e due arresti in età ferugli, feriti due poliziotti che avevano sparato in aria per intimidire gli Ultras. Bari in serie B, Cessina travolto 3-0, buona la prima del Bari per la formazione di grosso assegno in prota Galano e Tonucci.